Il momento del capitano, del nostro capitano, del simbolo di Roma, del gladiatore giallorosso, del Vivo d'Oro, con il numero 10, Francesco! Totti con del Schwanzer. Francesco! Totti! 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 1-0! Qui precisione e potenza. È andato deciso, ha battezzato l'angolo, non c'è stato nulla da fare, tirato benissimo. Chiudete le valigie perché siamo riusciti a portare a casa un ottavo di finale incredibile. Si chiudisce il centrocampo, il lancio verso il tocco da Martina Ingola per il capitano e solo è il tiro! Soltanto lui! Soltanto lui! Soltanto lui a 38 anni! Lo splendido tocco prima da parte di Nainggolan, il pallone splendido lanciato in profondità per il capitano, l'esterno sull'uscita di Art, la nuova che pareggia! E' spaccata! E' spaccata! No! Ma da stasera sarà più alto di 10 cm il capitano! Che gol spaccata in diagonale! Che gol spaccata in diagonale! Che gol straordinario! E' spaccata! Soltanto lui! Questa è un'azione fantastica, bravissima Tommaso, anticipata vicino al programma. Miralem, eccolo il tentativo di tiro, la palla respinta, il capitano del gol! Go, go, go!! El capitano, è il cheNew Tipo Ti нав. bene Tommasi attento Tommasi in questa circostanza Emerson si era fatto soffiare al pallone da Doni però è terminato molto bene Tommasi se ne va Totti, tutto da solo se ne va Totti, Totti sono davanti ad Antonioli che gol ragazzi, che spettacolo Francesco Totti per il 3-1 è un gol alla Maradona quello numero 11 di Francesco Totti Samuel ecco Vincent Candela ottimo il tandem ancora con Montella vai Francesco ecco Totti, Totti, Totti il pallamento di Megheta go 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 se Maria fermato c'è Totti che può spingere di nuovo il contropiede attaccato da Cambiasso riesce ad andare via poi salta anche se Maria insiste ancora Totti lo aspetta Materazzi Totti si porta quasi in zona tiro Totti si è liberato pallonetto Francesco Totti Totti un gol pazzesco pazzesco per il 2-0 devo dire grandissima sportività del pubblico dell'Inter che applaude il gol di Francesco Totti grandissima sportività sì questo è un bel segnale sicuramente perché prima della partita invece non l'avevano grande distanza prova Totti potentissimo è un gol leggendario Iadi sta ancora allargando le braccia sconsolato per dire cosa posso fare di fronte a un tiro così si è abbassata la barriera quindi lui ha visto il Polone con metto ritardo poi era violentissimo un tiro violentissimo tiro che ha preso la parte inferiore della traversa prova Cassetti prova Cassetti a riaprire verso Francesco Totti che grande gol splendido gol di Francesco Totti che firma la doppietta e chiude la partita splendido gol di Totti 4-1 una meraviglia che fa scattare in piedi tutto il pubblico del Ferraris applausi a scena aperta per Francesco Totti 4-1 partita chiusa ci ha provato ha guardato ha aspettato il pallone che fosse all'altezza giusta ha mirato quell'angolo grandissima grandissima azione tecnica gesto tecnico di un grande Totti perché oggi veramente è stato forse il migliore in campo applausi a scena aperta del pubblico del Ferrari si sono alzati tutti in piedi gli spettatori di Marassi per applaudire Francesco Totti eccolo qua ci siamo entusiasmati ieri per il gol di Ronaldinho e qui insomma sul cross di Cassetti non è da meno questa conclusione di Francesco Totti da un angolo impossibile è da qui è da qui Grazie a tutti